E' come a scuola, non lo potevate in mano, si sono divertiti in età, aspetta ma comodo, allora si è venuto, ma che non è che è molto comodo, adesso cambiamo e mi ritiro questo, no dico sono molto contenta e ho applaudito a questo grande successo anche perché chiaramente non mi appartiene, quindi l'ho potuto fare da esterna, sono contenta quando le cose funzionano, sono contenta quando le cose riescono a fare cento, ecco, si colpisce il bersaglio, tutto questo, questo amatico di Stato, quindi in questo dovrebbe unirci tutti, no? Un risultato buono di un'azienda pubblica è un risultato buono.